musica un appassionato di Healing Impossible so che stanno girando il settimo sto guardando tutti dal primo rispetto al quinto disatto vorrei vivere come lui Massimo che posso fare è un po' di palleggi con i perfetti, prendo un giornale, grazie di vederci. Buongiorno, senta, sto a cercare dove chi gira il film, Mission Impossible, sì so, appassionantissimi, l'ho visti tutti, so di arrivare a darmi tutti, pensate a me il film, mi guarda perfino il nome come Mission Impossible Boscolo, che fiero che so di sto nome, massa film, ad ogni madre della, grazie, grazie di vederci.